La coppia Castellano e Pivolo nasce da un grande giornale umoristico, cioè il Marco Aurelio, un giornale che a quei tempi andava fortissimo perché vendeva moltissime copie ed era un giornale dove ci stavano le vignette, le vignette sono dei disegni umoristici con sotto una battuta e diciamo era un punto d'arrivo perché è un giornale dove lavoravano degli umoristi molto importanti, ci lavorava Steno, Monicelli, Scola, Fellini e praticamente io sono entrato in quella redazione quando già c'erano come redattori Castellano, Vighi, Dipas, lo stesso Ettore Scola che ancora c'era, che ancora lavorava lì e ho cominciato a fare parte di questa redazione, portavo delle vignette, alcune mi venivano cestinate, molte però io non mi perdevo d'anima, ne portavo tante, finché poi abbiamo cominciato a collaborare al Marco Aurelio dove disegnava pure Castellano e faceva le vignette anche lui e piano piano diciamo siamo conosciuti, siamo diventati amici e abbiamo cominciato a fare dei lavori per la radio, in quattro eravamo io, De Palma, lui e Vighi, poi piano piano abbiamo visto che eravamo più in sintonia noi due e abbiamo detto ma perché non formiamo una coppia e abbiamo formato una coppia e abbiamo cominciato a fare dei lavori per la radio e poi piano piano siamo cominciati a aspirare a questo che era il cinema, abbiamo cominciato a scrivere dei soggetti e piano piano piano, così la doppia Castellano e Pivolo ha cominciato a fare il primo film che era Marinai, Donne e Guai, un film di Simonelli che c'erano Tognazzi, Vianello, Maurizio Arena e che andò talmente bene che siccome allora come adesso quando un film va bene e gli autori vengono premiati ci chiamarono subito e cominciamo a fare tantissimi film e questa fu la nostra partenza. Abbiamo cominciato a fare una specie di realismo che poi è diventata la commedia all'italiana, infatti il primo film come coppia Castellano e Pivolo federale con Ugo Tognazzi che era un film quasi realistico e poi man mano, sempre abbiamo seguitato a scrivere commedia all'italiana, Voglia Matta, Le ore dell'amore, il giovedì, però man mano ci si accorgeva che questo fare la commedia all'italiana diventava sempre più sofisticato, i film diventavano sempre più elaborati, agio e scarpelli bravissimi li portavano addirittura a dei livelli quasi diciamo non inarrivabili ma comunque al limite e quindi praticamente noi piano piano ci siamo scostati e abbiamo fatto un tipo di commedia che Castellano chiamava il neoirrealismo e che era una commedia che si basava solo su delle idee, delle favole, dei racconti, delle situazioni un pochino da film americano, da film ai telefoni bianchi e di questo fa parte per l'appunto Innamorato pazzo. Sì, questo sodalizio di Castellano e Pivolo a Celentano è iniziato molto prima, disse Adolfo in Arteführer, cioè il primo film che abbiamo girato con lui, è iniziato quando lui cantava perché noi eravamo dei fan, io in particolare dei fan proprio di Adriano Celentano, quindi andavo a trovare un po', mi vestivo un po' come lui, come tutti i fan, cioè andavo là, cercavo di parlarci, allora siccome apparteneva al mondo spettacolo avevo più facilità di parlarci, poi abbiamo fatto una revisione di uno strano tipo, un film che lui fece con Fulci e praticamente siamo diventati amici, gli facevamo leggere i soggetti che a lui piacevano, mi telefonava a spesa e diceva che succede di ammazzato il giorno di nozze, si chiamava questo, e piano piano così, quando poi si è verificata l'occasione di fare un film strano perché poi Adriano è sempre portato volentieri per tutto ciò che è nuovo, innovativo, diverso, come sia Adolfo, lui è aderito e grazie a lui l'abbiamo potuto fare, quella è stata la nostra partenza insieme a lui. Innamorato pazzo fu un successo enorme di Botteghino, devo dire che usufruiva anche di due film precedenti che erano Mani di Velluto con Eleonora Giorgia Adriano Celentano e Bisbetico Dommato che è stato proprio l'esplato di Adriano Celentano perché era un film scritto su misura su di lui, e già il Bisbetico Dommato incassò 19 miliardi dell'epoca, mentre invece innamorato pazzo ne incassò 23, quindi andò super bene, tanto è vero che fu insieme l'anno prima al Bisbetico, fu uno dei due film, gli unici due film italiani che riuscirono a incassare più dei film americani, cosa impossibile a quei tempi, invece loro ci riuscirono, infatti io a Castellano vincemmo il biglietto d'oro, diciamo che erano film che erano fatti proprio per il pubblico, erano fatti su misura per Adriano, su come parlava lui, su come si comportava lui e poi c'era dietro Mario Gori e Vittorio Gori, soprattutto Vittorio perché Vittorio aveva intravisto questa grande possibilità di Adriano cinematografica e diciamo è partita così questa avventura. Il film Innamorato Pazzo parte come ho detto da Bisbetico Dommato perché se avendo fatto un successo di quella portata il produttore voleva fare un altro film con gli stessi attori e fare un film con gli stessi attori comportava trovare un'idea che fosse giusta per loro e così abbiamo pensato tanto tempo, lui e Castellano, finché alla fine abbiamo trovato quest'idea che era sempre un prototipo di commedia all'americana che può ricordare vacanze romane, ma in realtà è una storia d'amore, cioè la storia di un conducente di autobus che si innamora di una principessa che quel giorno è scappata dalla corte perché si vuole divertire e nasce una storia d'amore che era abbassata, e questo che poi Adriano poi bisognava pure convincerlo a fare i film perché mica faceva un film perché così doveva fare un film, no, la prima cosa che dava la prevalenza era la storia e la cosa che gli ha piaciuto a lui è quest'idea che c'è Innamorato Pazzo, cioè che l'amore vince, cioè lui era talmente candido in questo film che gli dicevano ma come, ma tu vai a sposare una persona che diceva, e sono innamorato, e quindi lui, secondo lui, se essendo innamorato doveva per forza andare a buon film la cosa. L'accoppiata Muti-Celentano, ecco, che è quella che si vedeva anche successo ai film perché era un'accoppiata magica, stavano benissimo insieme, anche se devo dire il produttore forse voleva mettere l'Antonelli a quei tempi, però diciamo noi insistiamo molto per la Muti perché la trovavamo un po' più nuova perché non aveva fatto mai commedia, infatti quando Ornella Francesca lesse questo copione disse ma che è un film comico, perché lei diciamo aveva fatto i film di Ferreri e non era certamente portata per la commedia, anzi la guardava con diffidenza, quindi c'è stato un grande lavoro di preparazione per fargli accettare il primo film e anche il secondo e quindi sulla scia di Bisberico Domato abbiamo pensato questa storia di un conducente di autobus della principessa per questi due attori. oggi Barnaba non è proprio del suo solito umore, è vero oggi non è del suo solito umore, sarà perché non trova più la sua ragazza, è vero non la trova più che c'è? Da quanto tempo sei qua tu? Da stamattina all'alba, perché? E non hai visto passare una ragazza bellissima con degli occhi azzurri che danno un po' sul verde, tipo nuvole nel cielo contrastato nel mese di marzo? Tipo nuvole nel cielo contrastato di marzo, di cui io sono innamorato pazzo, scrive. Di cui io sono innamorato pazzo. Pazzo con due zeta. Pazzo con due zeta. Ma le pare il modo di fermarsi così bloccando il traffico? No. E allora vada via! Ma l'hai visto o no? Se ne vada! L'hai visto o no? Quella con gli occhi contrastati del mese di marzo? Sì. No! Vada via! E allora potevi dirlo prima, no! Allora andavano molto d'accordo perché cercavano di portare ognuno quello che aveva, cioè Adriano, l'estro, l'imprevedibilità e lei, a parte la bellezza, anche il candore, perché in un certo senso era la prima a ridere, tante volte noi abbiamo dovuto interrompere la lavorazione perché era la prima a ridere di una battuta ad Adriano o di una situazione che la faceva ridere perché era un periodo in cui scopriva l'umorismo. Infatti c'era lì nel film Cenno, c'era una barzelletta su un uccellino, su un canarino che pesa 150 kg e lei l'ha voluta spiegare dieci volte perché non riusciva a capire dove era l'umorismo. Adolfo Celi io l'ho conosciuto abbastanza bene perché innanzitutto perché era un amico di Luciano Salce. Luciano Salce, regista, ha sempre fatto i film con Adolfo Celi, quindi ha fatto Slalom con Gassman e Celi, insomma Celi faceva parte degli attori che si frequentavano e quindi il rapporto con Adriano è stato pensato proprio perché lui, avendo fatto anche i film di James Bond e Celi, aveva questa importanza anche fisica per cui poteva fare benissimo un re e pensavamo che potesse derivare molto umorismo dal confronto di un personaggio con passato serio, un po' tronfio come potrebbe essere Celi in questo ruolo e Adriano che aveva una riffa. Infatti le situazioni più comiche, come poi vedrete, come si vede, il pranzo a corte, venivano fuori da questo contrasto. Di improvvisazione diciamo che noi sul set siamo stati sempre abbastanza fedeli a quello che scriviamo e anche Adriano stranamente non è un attore che ha mai sconvolto tutto. Il nostro film lui si dimentichava completamente di essere un regista a sua volta, ha sempre abbastanza seguito fedelmente tutto, anche perché era scritto e poi gli veniva letto il copione prima di fare il film, per cui se c'era una cosa che non gli suonava tanto giusta magari si poteva anche cambiare. Allora diciamo, quella scena sì, un po' è scritta, ma è un po' anche improvvisata. Per esempio lì c'è una gag della terza mano che c'è lui che a un certo punto si strangola da solo, ecco quella è stata inventata sul set e là, l'ha quasi inventata lui perché dice si potrebbe fare così. Quindi diciamo lui è molto divertente perché stranamente è un attore che tutto calcola, tutto prevede, di cui lui sempre ha studiato tutto quanto a tavolino, invece lì si è lasciato un po' andare perché anche se Adriano sembra un estroverso, in realtà è un pignolo, nei suoi film e poi vignolissimo, nei suoi quelli girati da lui. E ritornando a questa sequenza c'è un episodio divertente, dunque Mario Cecchigori, padre di tanti film, insomma di una casa di produzione grandissima, con tanti successi alle spalle, allora lui era un personaggio molto serio, anche se poi amava la guerra, le storie di guerra, la storia antica, così, ed era un personaggio con cui si chiacchierava volentieri, era però molto serio e fondamentalmente cupo, triste, perché stava sempre in questo ufficio un po' scuro, un po' triste, grigio e così, e allora mi ricordo che io andavo là e gli dissi Mario sai che è successo oggi? Stiamo girando questa scena al foro, sono passati dei turisti tedeschi, dei turisti tedeschi che hanno visto questa situazione e hanno riso come pazzi perché poi cadeva una colonna, allora ho detto sì ma in Germania ancora non l'hanno comprato l'altro film, perché tutto andava male, allora io ho sfinito da tutta questa cosa di sfiducia sua, dico Mario ti devo dare una bella notizia, siamo andati a vedere il girato e ha sfiammato tutto, ha sfiammato vuol dire ha preso luce ed era vero e lui finalmente ha riso, questa notizia tragica. Che sprecono, ma bastava una monetina. E vuol dire che ci tornerò molte volte? Beh certo, quando torneremo dal viaggio di nozze. Dai non scherzare, andiamo. E' venuto un conducente di autobus e praticamente gli ha insegnato a portare un autobus, lui si è divertito, anche la scena in cui lui scende per le scale, non c'è controfigura, lui scende per una scalinata, l'ha voluto portare lui, si è molto brava, anche qui c'è un episodio abbastanza divertente perché quando abbiamo girato, immaginare cosa è stato quando si è girato con il Celentano e la Mudi dentro un pulmo di colorata a Piazza Fontana di Trevi, allora Piazza Fontana di Trevi era il caos, già il caos è oggi, ma anche allora c'era abbastanza gente e quindi mi faceva ridere di ricordare Luciano Luna che era il direttore di produzione che poi è diventato il dirigente della Fiorentina, c'era tutte le storie che sappiamo, Luciano Luna che girava con una cartella, non si sa perché, in mezzo alla gente dicendo passeggiate disinvolti, poi ai giapponesi passeggiate disinvolti, quindi si vedeva benissimo che era uno della produzione. attento 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 niente è un complimento romano quando uno è simpatico qui gli dicono a stronzo con Adriano era tutto semplice e facile perché Adriano una volta che accetta dei collaboratori o comunque delle persone con cui lavorare si fida ciecamente e diventa anche un amico e quindi a quel punto non crea nessun problema mille volte è capitato che Adriano dicesse ma questa battuta perché non fate il primo piano a lui oppure dategliela a lui, a un collega cosa che io non ho mai visto fare da nessun altro attore e quindi io posso ricordare solo cose simpatiche scene divertenti, finita la lavorazione oppure il tempo, un periodo del cestino si scherzava, si rideva per esempio un altro episodio di Celentano che ricordo benissimo e che è divertente è questo che lui, essendo un bing, essendo una personalità i film erano incentrati su di lui certo erano fatti da un complesso c'erano dei registi, c'erano autori c'era la Moody ma diciamo lui si è sempre considerato infatti si fa chiamare il celebre va bene, oltre che il molleggiato e quindi aveva le sue pretesse una di queste pretesse si doveva girare vicino a casa sua perché non gli andava a fare niente cioè non gli andava ad andare di prendere il treno di prendere la macchina e quindi diciamo innamorato pazzo si è girato tutto lì vicino al lago di Roma a Galbiate vicino alla sua villa allora delle volte stavamo addirittura in delle situazioni che noi stavamo non so sotto lui si affacciava a finestra e diceva pronto il set e lo scendeva cioè proprio a contatto di gomito allora questo qua quando abbiamo fatto un altro film con lui che poi è segni particolari bellissimo allora noi per sottolineare questo fatto siamo andati alla sartoria di Relli e ci siamo presi due costumi io e Castellano da carcerati con le righe la palla così e siamo andati a Galbiate a parlare con lui di questo film perché volevamo convincerlo che non eravamo due prigionieri dovevamo stare là e quindi volevamo convincerlo a fare il film a Roma allora siamo andati là e lui stava in moviola perché poi si monta tutto pezzi di film stava lì in moviola tutto e noi gli siamo arrivati dietro lui si è girato e gli è preso un colpo perché nemmeno a farla apposta alla radio e alla televisione qualche giorno prima aveva dato la notizia che erano fuggiti due privati due prigionieri dal carcere là vicino quindi lui si è terrorizzato ecco questo è stato divertente perché se non siamo riusciti a ottenere niente ma abbiamo spaventato bene naturalmente Adriano in questi film commedia che erano basati sulla battuta sulle situazioni doveva essere contornato di grandi attori professionisti perché lui essendo diciamo un attore naif aveva bisogno di qualcuno che ogni tanto lo riconducesse ma soprattutto la sua importanza facesse acquistare ancora di più importanza a lui che già ne aveva tanta e quindi ecco per esempio per Innamorato Pazzo il cast è stato studiato molto a lungo come dovrebbe essere infatti Celi che come ho detto è diciamo era importante per questa sua veste di importanza per questo suo personaggio che già aveva fatto in James Bond e comunque sempre dei ruoli perché ancora amici miei non aveva fatto dei ruoli realistici importanti di peso per fare questo re di questo regno d'operetta dava la sua importanza con la sua presenza carismatica Milla Sannoner che faceva la regina attrice di teatro quindi veramente brava che sapeva cogliere le sfumature e prendere al volo e poi anche i comprimari tipo Garinei Enzo Garinei il quale parte che nella commedia e nella rivista è sempre stato un attore bravissimo ma lì proprio facendo il segretario del re è sempre disperato per questi due innamorati che girano per la città e che loro non riescono a catturare e a localizzare dato un'interpretazione carinissima c'è un pezzo del film che io amo moltissimo perché è un pezzo che quando lui va a fare la serenata Adriano va a fare la serenata alla principessa nel giardino della Casa Reale e praticamente lui suona una parodia del barbiere di Siviglia con la banda dei tramvieri di quelli degli autobus e che è innamorato di quella là bravo bravissimo ecco e lui in questo pezzo qua ci sta una sequenza che quelli si svegliano tutti la regina il re il segretario e a tempo di musica camminano un po' da cartone animato sembra un pochino un film di Walt Disney poi si sbattono ecco diciamo questo tipo di accorgimento questi attori di questa portata erano molto utili per il successo di questi film moltissimo è innamorato di quella là innamorato di quella là di quella là innamorato il riso è una cosa il divertimento che ti fa scordare tutti i momenti neri della tua esistenza per cui sempre per reazione a dei problemi la gente preferisce andare a vedere un film comico però non è tanto questo il motivo il motivo reale è che l'attore comico e il film comico si potevano proporre come contropartita al film americano perché era più facile realizzarlo era un film dai costi limitati relativamente limitati perché era poggiava tutto sulla verve di alcuni attori comici e quindi poteva riscuotere in Italia con un pubblico italiano un successo maggiore alle volte anche di quello americano naturalmente gli attori comici di allora erano grandissimi degli anni 80 perché c'eravamo Tognazzi Gasman Manfredi Buzanca che andava anche fortissimo e quindi questi erano chiamati poi i colonnelli si erano chiamati infatti hanno resistito per tanti anni e sono quelli che hanno fatto insieme a degli autori come Agge Scarpelli Scola noi stessi eccetera hanno fatto la comedia all'italiana e quindi essere protagonisti di un film dava a loro già un carisma tale che tutto il pubblico andava a vederlo non solo ma poi c'era una serie di film secondari chiamiamoli film sempre di divertimento di ogni genere perché c'era il genere tipo la liceale ripetente tutti questi generi così che però con attori come Lino Banfi eccetera facevano ridere erano divertenti anche questi e il pubblico li prendeva quindi diciamo per il cinema italiano c'era una grande possibilità perché c'erano i generi c'era pure il film mitologico c'erano gli Ursus e le Sanzone insomma addirittura abbiamo fatto noi film di fantascienza in Italia ecco diciamo che però l'attore comico era quello che più poteva combattere i film americani questo finché c'è stata la commedia all'italiana finché ci sono stati questi registi Simonicelli Scola e Risi però piano piano sono usciti ahimè sono usciti fuori degli altri attori tipo Nuti tipo Verdone tipo Raccioni insomma tutti questi attori che praticamente un po' per colpa dei produttori qua bisogna dirlo per poterli invogliare a fare i film perché magari avevano molte richieste e gli hanno offerto sempre la regia a questi attori e allora sono diventati tutti i registi e diventando registi sono diventati anche scrittori e praticamente non hanno avuto più i loro autori non c'è più un'equipe di persone che lavora esclusivamente per un attore conoscendo i suoi modi di dire il suo modo di fare e quindi lavorando per lui ma ognuno si scrive il film per se stesso se lo gira se lo recita e se lo pensa e questo ha impoverito un po' tutto se noi oggi stiamo qua a cercare di rifare il cinema italiano è un po' anche per colpa di questo io non scherzo mai appena ti ho vista ho deciso che noi ci saremmo sposati beh gli hanno uccidato innanzitutto gli deve piacere la storia una volta che ha capito che gli è stato spiegato che cosa fa lui nel film gli piace la storia allora hanno due mette sceneggiatori in questo scherzo io e Castellano e cominciano a scrivere la storia poi c'è una seconda fase in cui bisogna leggergli la storia e questo leggergli la storia diventa una specie di tormentone perché non ci si riesce mai perché seguendolo dappertutto uno gli deve leggere questa storia mi ricordo che per mani di velluto io l'ho seguito per tutta la penisola perché lui stava facendo il tour negli stadi e quindi io abbiamo fatto io sono andato anche con mia moglie andavamo stavamo a cena adesso no no adesso domani domani è finito che l'ultimo giorno con l'aereo in partenza lui che stava facendo stava su una barchetta io mi sono levato le scarpe stavo in mezzo al mare e io sono arrivato là gli ho letto la prima pagina la prima pagina bellissimo lo faccio e io sono andato noi con Adriano abbiamo fatto il primo di questi show suoi con chiamiamole le pause di riflessione perché fummo chiamati da Adriano stesso io le chiamo boss con nostra gente e dice Adriano vuole che voi fate per voi la televisione per lui dove sta a fare sta a delle vittorie e va in onda sabato era giovedì allora siamo arrivati Adriano va bene si accettavano naturalmente ci chiamava lui avevamo fatto i film con lui di Adriano ma che possiamo fare insomma abbiamo guardato abbiamo fatto la scaletta abbiamo rifatto la scaletta e tutto e tutto quanto e poi lui è andato in onda è andato in onda e ha fatto per la prima passeggiata si torceva il colletto non so che dire e poi improvvisamente ha incominciato a parlare della vita degli uomini della bontà del male della cattiveria sempre questi suoi messaggi per tutti e poi ci ha detto ma sapete praticamente mi è venuto come un colpa adesso ho sentito un calore enorme poi mi è venuto a dire questa cosa e tutti noi a dire beh Adriano ecco questa è la trovata da termissione adesso tu ogni settimana ti fai questa passeggiata e dici questa cosa lui dice proprio quello che avevo pensato io infatti effettivamente l'aveva pensato pure lui e diciamo è fantastico dice Lentano quello delle pause di riflessione dei silenzi poi certo ci sono fanno delle cose da ridere però diciamo ma scommi adesso tu vuoi fare che loro devono pensare alla guerra e devo fare cinque minuti con il televisore vuoto mi dico ma sei pazzo facciamo tre minuti no quattro minuti insomma quattro minuti quattro minuti beh questa è una cosa divertente che un istruttore di sci che poi abbiamo conosciuto in occasione di un altro film sempre con Celentano ci ha raccontato che lui non sapendo nulla essendo un montanaro che viveva fuori dalla vita di tutti i giorni è tornato un giorno a casa ha aperto la porta ha trovato la moglie la figlia ma sta davanti al televisore è spento così fermo pensate fossero pazze invece era Adriano che aveva ordinato a spegnere il televisore per tre minuti e tutti loro come gli altri avevano obbedito questa è la forza del carismo la nostra lunga avventura con Adriano al cinematografico è nata proprio da una pausa perché proprio nel primo film abbiamo fatto con lui che sia Adolfo e Narte Führer c'è una scena in cui lui e suo fratello gemello che ha interpretato da lui fanno una specie di roulette rosso un duello con una pistola che si gira e fa così ed è tutta basata su quello che sta per sparare su quello che spera che quell'altro muoia così non muoia lui o su quello che teme di morire premendo il grilletto allora questa sequenza aveva delle pause di riflessione fatte da lui perché voleva pensare bene lunghissime però secondo noi anche divertenti esilaranti per cui le abbiamo lasciate tutte e da lì lui è nato il grande amore per noi come registi da questo episodio perché pensava che nessun altro avrebbe avuto il coraggio di tenere quei tempi morti un po' come lui in Fantastico che poi teneva dei tempi morti che invece poi sono stati il suo successo mia figlia non c'è oh ma lei è il padre piacere sono contento di conoscerla si ricorda noi abbiamo già parlato al telefono mi ricordo benissimo è stato la telefono veniamo al dunque d'accordo lei di certo avrà fatto delle fotografie a Cristina si quella anche in costume da bagno e mia figlia ha passato la notte con lei si a casa mia va bene ho capito tutto bene sono contento che lei ha capito che io sono venuto qui per chiederle le vanno bene 10 milioni beh si 10 milioni possono anche andare bene o naturalmente bisogna limitare un po' le spese sa c'è la dobbo in chiesa il ricevimento il buffet quale buffet il buffet aspetta la sposa e la prassi comunque se vuole possiamo limitare la lista degli invitati io ho portato qui la mia vede e se vuole possiamo eliminare questi due che fra l'altro mi sono anche un po' antipatici ma lei vorrebbe veramente sposare mia figlia ho capito bene lei ha capito benissimo ma si rende conto mi rendo conto come no si ma dico è inaudito ma lei lo sa che mia figlia ha fior di pretendenti nobili industriali armatori fabbricanti di cannoni perfino un petroliere lei lei che fa io sono autobussiere come si spieghi meglio conducente di autobus il traviere è contento eh io lo sapevo che lei era democratico le va bene il 27 di questo mese figlio mio papà ma quale papà senti senti ragazzo mio tu mi devi dire una ragione una sola per cui debba farti sposare mia figlia perché sono innamorato beh ma tirai questa frase se siete stati almeno una volta innamorati andate a vedere innamorato pazzo perché è vostro figlio grazie a tutti grazie a tutti